Questo uomo è in condizioni disperate Vi faccia un'iniezione, tanto che possa parlare Altro che iniezione ci vuole perché parli Faccia quello che ci vuole Qui ci vuole l'ossigeno, bisogna portarlo all'ospedale Non può andare all'operale Bisogna che parli, dottore Vi ho detto che ci vuole l'ossigeno Lo mandi a prendere Disgraziatamente non godo buona fama in nessuna farmacia della città Cosa? Dottore, è indispensabile che Poldi prima di morire parli, capito? Beh, ci sarebbe una clinica privata dove potrei portarlo Ma avrebbe a costare un po' salato Non importa, ci pensiamo noi, come lo portiamo? Portatelo giù con tutto il materasso Lo metteremo nella mia macchina Avanti, andiamo E' al terzo piano, dottore, super questa scala Grazie, ha fatto bene a riferire Aspettiti Che non si scopra, mi raccomando Fate piano Che non si scopra E si levi, non vede che deve passare L'ammalato Sì, dottore, voglio vederlo L'ha già visto il nostro, lo dottore Non si chiama Poldi? Mettetelo giù, voglio vederlo Fuori dai piedi! L'hanno ammazzato L'hanno ammazzato L'hanno ammazzato Voi due, che nessuno avvicino il cadavere L'hanno ammazzato